Abbiamo consegnato tutto quanto il vestiario, attrezzature, tutto quanto. Non ci resta che incominciare a conoscere loro. Mi sono molto attaccata a questo sport in un periodo particolare della mia vita. Per me è molto molto importante. Lo è sempre stato, però in quel momento ho trovato nei cavalli la liberazione, diciamo. Quindi mi hanno aiutato tantissimo. Il cavallo per me è un compagno d'avventura. È un'amica. Da quando esco da scuola fino alla sera sto con lei. Quindi in qualche modo ci passo tutto il mio tempo. È una buona compagna d'avventure. Ho aspettato questa sfida perché per me è proprio una sfida anche le telecamere, il contesto, tutto quanto, per sciogliermi un po'. E soprattutto vorrei divertirmi e soprattutto crescere a livello tecnico sicuramente. Penso che sarà una bellissima esperienza. Sono qui principalmente per progredire nella mia carriera e conoscenza del mondo equestre. Spero che questa esperienza mi cambi radicalmente anche a livello vitale. Ho deciso di partecipare al campus perché penso che sia una life experience molto utile e appunto anche da un posto di vista proprio tecnico, che ci sono tecnici di eccellenza per cui è un privilegio. E cosa sono per me i cavalli? I cavalli sono tutto perché fanno parte delle mie giornate ormai da tantissimi anni senza cui non potrei vivere e penso che nella vita non voglio fare altro. I cavalli sono tutto questo. Grazie a tutti